Cerchio Ifior, Le chiavi del paradiso, ciclo 1999-2000, edizione privata. Pagina 22. Concludiamo con il padre nostro di Viola, la quale ci assicura che il regno è già qui. Il testo è stato scelto da misticismo quotidiano. Padre nostro che sei ovunque, sia resa grazie alla tua esistenza. Il tuo regno è già qui, sia in cielo che in terra. Sia fatta la tua volontà, perché la tua volontà è ciò che muove l'intero creato, ed il tuo regno è dovunque un essere vive, muore, soffre, gioisce e sente. Dacci ogni giorno l'impulso di migliorare noi stessi, affinché alla nostra fame di te possa sempre essere dato il pane necessario a saziarci. E aiutaci a donare agli altri ciò che sentiamo che da te ci viene donato.